Sbloccare la skin trinity con la coppa trinity Come ben sapete ufficialmente fornite ha annunciato una nuovissima collaborazione ovvero appunto la coppa di trinity appunto questa sfida trinity come vedete si terrà il 14 marzo e appunto questa coppa ci permetterà di sbloccare gratuitamente la skin trinity come vedete ecco qua i dettagli da vedere il punteggio che è andato sul torneo sui dei mod trinity date 20 queste mod si terrà esattamente il 14 marzo dalle 3 alle 18 quindi avremo appunto 3 ore di tempo per completare questo torneo abbiamo qua vittoria reale più 6 punti top 3 più 3 punti top 2 più 2 punti la top 10 più altri 2 punti la top 20 più 2 punti la top 33 è un punto e infine ad ogni eliminazione otterremo un punto e appunto come avete visto questo è come completare appunto il nuovissimo torneo appunto della skin trinity siamo solo a vedere sul sito ufficiale della epic games cosa ci dicono eccoci qua sul sito ufficiale vediamo qua subito garage nella sfida forn e trinity EU presentata da 3 wind 3 questa collaborazione quindi è presentata e sponsorizzata dalla wind 3 la versione europeo giocatori EU dal team di fornit il 14 marzo 2021 entreremo in partnership con gli operatori immobili 3 wind 3 quindi appunto come vedete questa coppia è sponsorizzata da wind 3 per potenziare la sfida 3d di fornit un nuovo torneo per terzetti nella regione server EU quindi appunto per giocare questo torneo ci basterà essere nella regione Europa e appunto grazie a questa regione potremo sbloccare il torneo terzetti che ci permetterà di sbloccare la skin trinity sai sul bus della battaglia con il tuo terzetti gioca fino a 10 partite nella finestra torneo di 3 ore i migliori terzetti della regione EU sbloccheranno il nuovo costume milite trinity entrambi gli stili quindi appunto questa skin qua contenerà 2 stili e aggiuntivi appunto avremo 3 ore per completare 10 partite appunto resterà a qualificarci tra le parti più alte della top dettagli sfida trinity la sfida trinity aperta a tutti i giocatori EU su android pc e console i migliori 3333 terzetti sbloccheranno il nuovo costume milite trinity su tutti coloro che correggeranno in almeno 5 partite sbloccheranno le moti con impatto trinity e sovraccarico trinity la sfida infinity inizia il 14 marzo alle 14 gmt e sarà la rungibile dalla scheda competing da 7 regione EU nota i giocatori devono avere l'autenticazione a due foto dati su loro account epic i giocatori possono prendere parte ma a un massimo di 10 partite dalle 14 alle 17 per il regolamento completo del torneo consulta la pagina del regolamento ufficiale della sfida trinity quindi appunto come vedete dobbiamo avere esattamente il 2FA attivo sul nostro account per poterci parare questo torneo e riscattare le skin trinity più precisamente i 3333 terzetti che si qualificheranno e riceveranno questa skin prima che al negozio oggetti disponibilità costume milite trinity nel negozio oggetti se non per partecipare alla sfida forno e trinity niente paura il costume milite trinity sarà disponibile nei costi oggetti più avanti nota inoltre che i giocatori di regno unito, irlanda, danimarca, svezia e italia potranno usare la debito diretta all'operatore telefonico per acquistare vbac su pc e il pagamento diretto epic su android tramite 3pain regno unito irlanda 3d black tan zonaca svizzera acquista con win3 in italia per chi intende careggiare per sbloccare il costume milite trinity in anticipo ci vediamo il 14 marzo per il torneo lascia il segno, sovraccarica e altri versetti quindi come avete visto ho esattamente molta emozione di sbloccare questa skin appunto ricapitolando questo torneo si terrà esattamente il 14 marzo quindi appunto due giorni prima della fine di questa novisima season di Fortnite appunto all'interno di questa copia potremo sbloccare gratuitamente la nuovissima skin con tutti i video faccio andare una piccola occhiata al nuovissimo bundle che è uscito pacchetto sfida tocco d'oro la femmina fatale avversata della buona sorte elimina gli avversari per aumentare la potenza del tocco d'oro e completata in cariche per sbloccare fino a 1500 vbac abbiamo cominciato a dare una piccolissima occhiata a questo bundle all'interno dei negozi oggetti di oggi eccolo qua pacchetto sfida tocco d'oro appunto anche questa skin qua come vedete la skin mida femmina che si stava tanto preannunciando e appunto come vedete anche questa skin proprio come mida nella storia del 2 capitolo 2 potremmo andare avanti nel livello del pass battaglia e praticamente allevamentare il livello di questa skin reattivo costume di segretà devono sempre più dorata ogni eliminazione le armi raccorte da marigold possono trasformarsi in oro il pacchetto contiene costume marigold torso decorativo scommessa dorata piccone pugnali d'oro stile tocco d'oro sblocca fino a 1500 vbac completandogli incarichi quindi appunto come avete visto è molto molto bella questa skin ho dovuto analizzarla più precisamente eccola qua la skin marigold come vedete non può essere regalata che può diventare sempre più dorata abbiamo qua il dorso decorativo scommessa durata anche questo è molto molto carino abbiamo i due picconi pugnali d'oro anche questo è molto molto carino e infine abbiamo il carico marigold quindi appunto le sfide che ci permetteranno di sbloccare 1500 vbac quindi appunto detto questo il video termina qua se volete iscrivetevi a questo canale attivando la campanellina delle notifiche lasciate me il mi piace e venite le mie live si tranne ogni sabato alle ore 20 alle ore 21 detto questo ci vediamo alla prossima ciao